Il mondo è un mondo per caratteristiche e per caratteristiche di pazza. Molto bene per me, ma che potremmo tornare a prendere il Sancio. Oggi è una vita all'altro! C'è una cosa che c'è così! Patti, ecco che non c'è! Guarda! E' un mondo è un mondo per me! Sai tanto che sopporti per me! Ma andiamo al Sancio! Tampate! Zitaro, Patacco! Partito di Savacco! Sono da sera! Molto bene per me! Molto bene per me! Dopo le impности a... In quella del Nektale del Nektale, Give me 3 tipi e dai! Non sopporti per me! Non sopporti per me! Il Nekale del Nektale,